piano 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 questo per non perdersi quando tu diciamo non sai cosa fare basta girarsi così sarà molto più semplice qua ti provo a uscire il gomito, seciato uscito con spaz, bravo c'è metà strada, io e qui giusto vedi, già mi fio qui, venga poi allontanare, hop ti vei, fa difficile, ti controlla di qua, posso piottoную controlla qui lo smite la chieda, chieda, chieda a terra, chieda a terra destra, non s'è, non gli da angle la pieta e ti piccina adesso ci mi diciamo il meto e blablab, h acuerdo sì sì, vai stare qui dalla former c'è e poi sulle attivate che meno sia che avvora è garbage, hai capito, hai capito? non lo ha mai avuto attacchi all'interno con la parte lui è libera l'espo devi girare bravo bravo il ministro hai capito senti Sì, 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 solo sotto gommico, avali, spai, oi si si diva così, si pia, aaaah, si, a capìa, questa, sì, o così, o così, o così, molto più veloz per te, quelle che vogliono fare, treanze, saranno così, sono quelle che te lozzi, malo sozzi, saranno, versari anche, si ceva, ci sono stati medici, sì, dovevo controllare, sì, controllare, sì, controllare, sì, controllare, sì, controllare, sì, controllare, perché, Sì, sì, l'ultima volta ho fatto, sì, 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 ma guardati, perché si è passato un anno, sono quelle che controllano e fanno subito, hop, vedi, tu vuoi liberare braccia, vedi, hop, e ti controlla, tu vuoi liberare braccia, basta, ti hanno chiuso, tu neanche non rendi conto, quello che devi fare, se ti hanno coperto questa spalla, deve spalla portare avanti 360 gradi, e schiena subito, attacati, attacati e vai, versi di schiena, 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 non, non, vedi adesso, hop, 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 controlla, bravo, pato, vedi, sì, schiena andata, sì, vai indietro, hai capito, sì, solo ti chiudono in questo modo, subito, 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 spalla qua, spinge, spalla qua, spinge, però non rimane tanto, perché ti chiudono, e ci sono sempre, ancora uno, no, sono di solito, di solito qua, hop, hop, ti prendi, poi pack, interisca, hop, metano così, e lasciati, chiudono? No, non ti lasciano, è da bo giro, ogni tanto non observi neanche, ti spingono, hop, vedi, poi vedi, il braccio è speciale per liberare questa gamba, poi mi giro, hop, bravissimo, hop, tiena, sì, sì, mi hai coperto, e su poco metto, sì, sì, devi girarsi bene, anche sì, per lasciare che lui si dili, perché sono quelli morbidi, che si sentono bene all'ordine, in realtà, meglio di non, se lui comincia a lavorare con te, tu vedi, subito devi cambiare posizioni, scusate? Adesso prova a aprire, prova a aprire le gambe, no, no, aspetta, pancia, devi spingere l'ombelico, spiena dritta, braccia, aperta, pack, più alto, controlla, bene, anche qui, e girati, piano, piano, controlla, lavora solo questa gamba, piano, piano, sempre più basso, più basso, più basso, perché lui vuole fare così, hop, e inserire così i ginocchi, tu devi sempre qui e più basso, e vai verso di me, adesso io voglio liberarsi, invece, vedi, bravo, questo è un punto, bene, controlla bene, qui, attaccato, hop, 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 sì, bravo, così, hop, lui ti spingi, quello, adesso spezza cosa devi fare, pack, più profondo, più profondo, così, più attaccato, più basso, più basso, avanti, capito? Loro sbagliano di solito sempre così, provalo, spieghi qua, ora qui, pazienza e tranquillità, qua, va, deve essere attento quando ti apri, ok, va, provalo, a tutti bene, predilita a scena.